Corrado, è venuta fuori in questi ultimi anni questa straordinarietà di fare rete tra i distretti e tu stai cogliendo un momento, vedo, ancora di più straordinario, quello di dare una grossa mano dal punto di vista politico perché ne sei l'assessore al turismo. Che ci dici su questa motivazione? In questi anni noi abbiamo accompagnato la costituzione di 24 distretti turistici, la Campania oggi è la regione che ha più distretti turistici, questo è sicuramente un dato importante. Io credo nei distretti turistici perché sono la sintesi perfetta tra pubblico e privato, bisogna però, e questo speriamo di farlo a breve, bisogna arrivare alla definizione di una norma che chiarisca un po', che faccia un po' d'ordine in regione. Perché ritengo che tanti servizi possono essere realizzati da parte dei distretti turistici, sono invece non tanto convinto che si possano occupare di promozione del territorio. La promozione a mio avviso spetta ai poli turistici che nascono anche come sintesi perfetto tra pubblico e privato e che a mio avviso si devono occupare di promozione del territorio. Io immagino un polo dove la regione mette la sua parte, i comuni mettono la loro parte, gli imprenditori, le imprese mettono la loro parte. In un ambito territoriale si va alla diversificazione e si traccia poi la filiera dei prodotti di eccellenza, mare, monti, gastronomie ed altro. La Campania è una regione che ha tanti punti di forza, dobbiamo metterli in rete. Allora io voglio fare solo una chiosa e poi è finita. Quindi i distretti turistici, regione, privati, noi alcuni amici ci stiamo interessando di un progetto integrato che pure voi state dando un cenno, i distretti del cibo. Ma guardi il distretto turistico di per sé è già un'organizzazione perfetta perché pubblico e privato. Poi lei mi dice andiamo a diversificare, per cui tutto ciò che riesce a far crescere l'immagine della Campania sicuramente dalla regione Campania, dall'ente regione è ben accolto e sarà sostenuto. Grazie Vincenzo Marrazzo, presidente del distretto turistico Pompei Sarno. Ma io mi pare che sei il presidente di tutti, sei il coordinatore, ma questa tua forza, questa tua verve, questo tuo sprone che a tutti quanti noi ci sta creando di nuovo un grande interesse verso i nostri territori e verso le nostre città, riusciremo a mettere insieme anche i distretti del cibo? Ah, probabilmente siamo pronti, anzi approfittiamo della prossima fiera che si fa in Campania, la borsa del turismo, la borsa del turismo, che in quell'occasione vorrei fare proprio un confronto, un luogo di incontro e dove si misurano i territori sia sulla proposta no gastronomica che poi sull'offerta turistica. Quindi pensiamo ad un evento organizzato con molta attenzione da parte di tutti dove ci giochiamo la visibilità a carattere internazionale. Quindi un buon successo qui alla BIT di Milano, ma torniamo a casa per lavorare allacremente per rappresentare luoghi, saperi e sapori unici al mondo. Allora io sono contentissimo anche di aver rivisto Nando Farrone che è il vice sindaco di Portici, che è il distretto dove io ho vissuto i miei anni della politica e sono felice di averti incontrato per questo pubblico privato. Quindi io penso che Ercolano Pompei con Portici abbiamo messo insieme alcuni pensieri che uno di questi si chiama Apri le ville per un omaggio in fiore, i fine settimana di aprile e maggio con Portici e abbiamo un'idea con te di procurarne anche con altri. Per la verità l'idea simpatica potrebbe essere quella di fare in modo che le sovrintendenze, ragionando con noi, possano aprire, come Pocanzi diceva anche Lino, i luoghi archeologicamente, storicamente rilevanti anche di sera. Tutti quanti sappiamo il grosso risultato ottenuto dalla regia di Caserta quando si illumina di sera, si possono fare dei percorsi guidati notturni anche tra le tante realtà di grande pregio architettonico e archeologico che abbiamo in tutta la zona che va sia sulla costa del Vesuvio ma anche sull'area di Pompei che arriva fino all'ocella superiore dove c'è il parco archeologico. Quindi insomma abbiamo buone cose di cui discutere attraverso il partenariato pubblico privato, abbiamo la semplificazione, la velocità nell'azione perché il privato interviene dove l'ente non può fare. In tutto questo noi abbiamo forse una marcia in più perché noi abbiamo i comuni con noi, quindi vanno attivati, i comuni vanno sensibilizzati per far sì che questi percorsi virtuosi possano partire subito e dare un nuovo slancio al turismo della Campania senza dimenticare poi quelle che sono le infrastrutture che le definirei madre per il definitivo rilancio della nostra zona che è la questione ambientale, voglia il cielo e scomparisse il fiume Sarno e la questione infrastrutturale nelle realtà dove sono ancora in affanno. Quindi forza Campania, forza distretti turistici, ci vediamo tutti quanti alla BMT a fine marzo. Allora io ti ringrazio comunque in bocca al lupo per quello che stai facendo perché io ricordo almeno una cosa e questo ci tenevo, tu sei riuscito a fare gli educational con la più grande azienda mondiale di turismo con la Cina, quando incominceranno a venire? Beh per la verità sono già, per fortuna hanno già iniziato, stiamo ragionando di altro perché c'è un progetto che è legato alla possibilità di fare una tratta nuova che possa legare direttamente a Shanghai, a Napoli e dopo la realizzazione della pista anche su Salerno. È un progetto ambizioso, abbiamo chiesto alla regione di partecipare a questa iniziativa misurandoci con noi stessi perché abbiamo parlato di partenariato pubblico e privato, quindi l'investimento sarà fatto sulla promozione per questo nuovo volo sia dai privati e speriamo anche dal pubblico, significativamente dalla regione Campania. Grazie, a presto alla BMT.